La parola da masticare oggi è la domanda che Gesù rivolse alla sorella di Lazaro davanti alla tomba del fratello morto. Credi tu? Lascia da parte per un momento tutto quello che hai imparato a memoria dal catechismo e che ripeti nel credo. Entra in quell'ambito segreto dove non ci siete che tu e Dio. Domandati, credo io? Ho mai creduto davvero di persona, non per interposta persona, fosse pure la Chiesa universale? San Paolo scrive che con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. La mia professione di fede viene veramente dal cuore? La fede apre orizzonti nuovi e l'unica capace di dare risposta alle domande eterne dell'uomo e della donna. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? L'era elettronica ci offre una immagine inedita della fede, la connessione a internet. Apri la pagina di Google e sei connesso. Tutto il mondo virtuale si apre davanti a te. Qualcosa di simile si ottiene con la fede, senza fili, senza costi. Una breve preghiera, un semplice movimento del cuore, uno sguardo all'immagine di Gesù che hai magari davanti nel tavolino e sei connesso. Connesso a un mondo non virtuale ma reale, l'unico veramente reale perché è eterno perché è il mondo di Dio.